ciao a tutti ragazzi bentornati siamo ancora qua con demon soul e siamo di fronte alla nebbia del boss della torre di latria non so se il primo boss sinceramente ormai in questo livello non ci sto capendo più niente allora prima di entrare devo innanzi tutto questo togliere perché non me ne faccio un tubo quella fresca questo ho finito tutto quindi erba piena, erba calante, erba crescente quindi direi che va bene così allora mi carico la magia e vediamo che boss è via che cazzo allora già che c'è due mani in più e voli non mi piaci vado repare ecco già che sparisce proprio non mi piace per un tubo buzzona buzzona oh è quella là in fondo ma porca troia buzzona 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 Ma che casino è sto boss? Si sdoppia in milioni di persone in più, oh è lei almeno, ecco un secondo colpo non riesco mai a darlo Meno uno, ah li do a colpirli tutti finchè non si trova quello giusto Però sono tutti in chiodi così Falso idolo Cazzo Cioè di per sé è semplice ma è un po' stronzo Trovato Ostia Non è quello E' anche quello, quello là lì in fondo Questo Visto, visto, visto Quello là O questa o la Eccola Provata Il demonio è stato distrutto Meno male 8000 Profèo del falso idolo Foto nobile Video Mi devo preoccupare, direi di sì Che 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 dove mi hanno buttato questi cornuti? vabbò bene ragazzi per ora mi fermo qua abbiamo sconfitto il boss il falso idolo adesso ci hanno portato qua in una torre che sinceramente non so cosa sia cosa dovremmo fare non ho una minima idea bene spero che il video vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi come al solito al canale e mettere un like nel caso video vi sia piaciuto al prossimo video